Noi abbiamo visto veramente un'esplosione di disagio dopo la pandemia e i ragazzi sono quelli che hanno risentito di più. Formazione, inserimento lavorativo, servizio civile, gruppi di autoaiuto per sostenere i giovani che vivono in una condizione di isolamento sociale e le loro famiglie. È così nato il progetto dell'Asla Toscana Sud-Est Riconnessi, finanziato dalla Regione Toscana e dai comuni della Conferenza dei Sindaci del Valdarno. Il progetto Riconnessi punta alla riconnessione, ma non virtuale, quella è anche troppo per i nostri giovani, ma alla riconnessione con il mondo reale, le persone, la scuola, il lavoro. Il progetto della durata di 12 mesi è rivolto alla fascia dei giovani definiti in IT, ossia non impegnati in attività di studio o lavoro. È stato proposto un momento di ascolto e di accoglienza a domicilio, quindi uno psicologo e una educatrice sono andati a domicilio di questi ragazzi e hanno intanto cercato di capire la loro situazione, la sofferenza della famiglia, hanno supportato la famiglia e poi hanno cominciato ad esplorare possibilità di uscita da questa situazione. È stata fatta anche una ricognizione, una mappatura di tutte le realtà che sul territorio possono essere di interesse per i ragazzi di questa fascia d'età e pian piano sono stati convinti a provare delle attività extra domestiche. Il progetto si è concluso con l'85% dei reinserimenti in percorsi scolastici per minori, per i maggiorenni invece il 34% dei partecipanti è stato avvicinato a servizi dedicati a formazione e lavoro e il 39% è stato inserito in attività socio-riabilitative. I numeri che emergono fuori danno sicuramente la certezza della qualità dell'intervento.